Musica Buongiorno, sono Antonio Russo, chef del ristorante La Giurecca di Gallipoli. Oggi il nostro piatto che presentiamo sono le tagliolini al filetto di pomodoro e basilico con lo scorfano. Gli ingredienti che compongono questa ricetta sono il tagliolino, una pasta fresca fatta da noi, i pomodori ciliegino, lo spicchio d'aglio, dell'alloro, del fumè di pesce, basilico, prezzemolo, vino, olio extravergine d'olio della nostra terra, sale e pere. E infine lo scorfano del nostro mare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci troviamo sul lungomare Galilei qui di Gallipoli. Siamo nel cuore del Salento, in un posto meraviglioso, a due passi dal mare. Il quartiere qui di Gallipoli si chiama La Giudecca e il ristorante dove ci troviamo è appunto La Giudecca. Qual è il segreto del successo di questo locale così ambito e così trendy soprattutto? Il successo di questo locale è dovuto soprattutto alla freschezza del prodotto, alla freschezza del pesce che giornalmente si compra e la differenza la fa la varietà dei piatti che andiamo a preparare tutti i giorni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.